Oggi vi spiego come si fanno ad aggiungere frecce, rettangoli con delle scritte, magari che sfumano l'ingresso in uscita e altre animazioni potenziali, soprattutto per le frecce ad esempio, che spesso mi avete visto usare nei miei video Il sistema è quello che va sotto il nome dei call out Dopo che vi sarete posizionati con la testina di riproduzione nel punto esatto in cui inserire il call out non c'è problema però, successivamente potrete calibrare, spostare, ridimensionare e fare ancora tutto Sceglierete il call out che dal vostro punto di vista è il più adatto per attirare l'attenzione o per spiegare una certa cosa Potremmo iniziare con il classico fumetto, lo speech bubble Il call out viene sia aggiunto in tempo reale qua sulla finestra di riproduzione e lo potrete posizionare piacere ridimensionare o anche ruotare Attenzione, per ruotarlo dovete prendere sono due punti di azione il secondo quando diventa verde c'è il simbolino della rotazione premete, tenete premuto e poi ci girate intorno così questo invece serve per lo spostamento a dire la verità però potete prenderlo e agganciarlo in un punto qualsiasi ok, non ci sono problemi se un pezzettino dovesse anche uscire dal quadro di registrazione apparirà così per scriverci dentro selezionatelo perché deve apparire questa area chiaramente attiva avete notato la differenza quindi se mi metto qui nulla lo seleziono e ci sono ok è anche utile scorrere la testina e andarci sopra poi scrivete quello che vi pare piace vabbè qua poi è facile scegliete la dimensione del testo e le altre caratteristiche potete anche aggiungere effetti come l'ombra oppure capovolgere orizzontalmente e verticalmente o scegliere tra uno degli stili che qua sono proposti e se un certo effetto in elenco è sfumato è perché non ha senso applicarlo a quel tipo di collab start cap and cap vanno bene per le linee e le frecce una volta che avete scelto una forma la potete cambiare è ancora selezionato lui dico no passiamo a questa più squadrata oppure a questa non c'è nessun problema addirittura potreste cambiare anche completamente e scegliere una freccia attenzione però che quando vi spostate in un altro punto per aggiungere un altro call out che non si è ancora selezionato quello precedente lo capite perché qua si legge la scritta e l'area di editing è colorata per cui anche se mi sono messo qui e vado a scegliere quello che dal mio punto di vista dovrebbe essere un nuovo call out non so questa freccia quello che in realtà comanderò è cambiare ancora quello vecchio vedete qui non si è aggiunto nulla qua si intravede che c'è stato un cambio infatti se ci torno sopra scopro appunto che ho cambiato quello vecchio quindi vi spostate in un altro punto e poi fate click qui in modo da perdere il focus notate il cambio adesso di colore di perdere il focus la selezione sul vecchio call out click è tornato chiaro vuol dire che qua è sparita l'area di editing e qua si è riattivata la parte con cui posso selezionare il nuovo call out adesso si e se voglio aggiungere la freccia quando qui non vedete nulla è perché dovete spostarvi un pochino sopra con la testina di riproduzione queste barre laterali non sono qua per bellezza ma rappresentano il tempo della durata dell'effetto in ingresso di dissolvenza in uscita che potete regolare qua draw time quindi se volete un ingresso più graduale così vuol dire che il call out ci metterà più tempo ad essere disegnato provo adesso ora invece diminuisco al limite potrei anche azzerare quindi apparirebbe tutto in un botto e la differenza sarà nettissima voilà non fatevi ingannare da quella che sembra una bellissima possibilità cioè di rendere quel simbolo un link un hotspot si può fare potete anche indicare che cosa deve succedere quando si fa clic su quell'hotspot cioè andare un certo secondo del video o saltare direttamente a un url al limite un sito web ok tutto molto bello però il problema è che deve essere supportato dal player per cui il player di youtube non supporta questa caratteristica che è di Camtasia funzionerebbe solo se pubblicassimo il video sul loro sistema di streaming quel screencast di cui ho parlato qualche lezione fa oppure se il target della vostra produzione sarà un prodotto su cd mi sembra che anche in quel caso allora abbia un senso far funzionare i link però lì ho un piccolo dubbio e ce l'ho il call out di tipo sketch motion è animato quindi lo scelgo anzi lo metto prima in un punto diverso qua ecco voglio evidenziare con una bella bordo rosso la scheda di questo modo leggendario va bene vado a scegliere lo sketch motion questo o questo eh mi sono dimenticato di fare click quindi ho cambiato l'altro ctrl z annullo clicco e lo ricerco lo posiziono e poi vediamo l'effetto eccolo qui posso regolare attualmente il colore del bordo e anche lo spessore riproviamo eccolo qui un altro call out particolarmente utile che uso spesso è l'evidenziatore forse un videogame non è il più adatto come scenario molto meglio quando sto scrivendo il codice e voglio evidenziare alcune sue parti in effetti però dai tant'è proviamolo posizionamolo qua magari per attirare l'attenzione sulla scritta inventario vabbè c'è poco da dire insomma adesso poi dovrei anche scegliere meglio i tempi qui ok tra gli altri effetti speciali la sfocatura questo blur in inglese potrebbe servire che so adesso ne creo due ctrl c ctrl v per copiare ecco in questo modo un modo un po' brutale concentrare l'attenzione sullo zaino dell'inventario ok così oppure il contrario questo che illumina spot light un'area scurendo il resto così eccolo qui carino beh poi sul tema abbiamo l'effetto pixelizzazione e ciascuno naturalmente ha anche un'intensità con cui lo si può applicare e se volete attirare l'attenzione su una combinazione di tasti da utilizzare allora questo è il call out da sfruttare ce ne sono poi quelle 3-4 varianti avete visto in pratica inserendo uno di questi call out proviamo questo vi sarà data poi la possibilità di specificare qui il tasto la combinazione magari col control l'alt eccetera e lui catturerà in tempo reale la vostra combinazione la proporrà in automatico pronta nel call out aggiungo solo ancora un paio di particolari potete tranquillamente impilare sovrapporre quindi sulla timeline più effetti contemporaneamente per farli partire tutti insieme anzi regolando a darti l'inizio e la fine di ciascuno potreste ottenere un effetto animazione anche abbastanza diciamo mediamente complesso andiamo a vedere questa meravigliosa composizione una specie di arlecchinata mostruosa che però ci fa capire come funziona il tutto e con questo vi do appuntamento al prossimo video grazie